Diamo la parola, l'ultimo intervento perché noi abbiamo trasformato questa conferenza in una maratona mentana per cui ci ha preso talmente tanto, il tema è interessantissimo, è importantissimo, quasi vitale direi. Diamo la parola al segretario Carlo Magno che si presenta. Salve, sono Marco Carlo Magno, sono il segretario generale della Confederazione Indipendente e Sindacati Europei. È un piacere intervenire qui sia la senatrice sia anche l'invito gentile di Giorgio Cavallero per parlare di un aspetto su cui tra pochi giorni, il 14, speriamo di avere un'unità sindacale, quindi tutte le organizzazioni sindacali contro questa, provvedimenti che sono dei provvedimenti contrari al diritto dell'Italia, contrari a qualunque diritto internazionale, visto che le condanne piovono anche dalla Corte Europea, ma soprattutto che ha un qualcosa di incredibile, inconcepibile, se non il segnale che manca assolutamente una visione del futuro del nostro Paese. Perché il problema di tagliare, qui è stato detto anche dai vari giornali, un taglio agli eroi, quello che è stato ricordato ai medici, proprio in quel momento, è proprio il segnale anche di una disperazione. Perché è ovvio che attrarre, anche se l'Italia purtroppo è il Paese della rassegnazione, in contrapposizione alla Francia che è il Paese della rabbia, ma attaccare comprensibilmente anche da parte dei cittadini, che hanno manifestato un'enorme solidarietà con i medici e con gli infermieri che sono andati in sciopero, proprio per difendere una categoria, per difendere delle categorie, nel momento in cui cambi radicalmente un sistema di certezza del diritto, ma soprattutto attacchi quelle che sono delle speranze, anche divisa, su cui hai ipotizzato anche il tuo futuro, senza dare la possibilità di rimediare. Perché vedete, per gli infermiere e per i medici, lo diceva anche Cavallero prima, c'è questa molta farsa, perché ripeto, costringere un infermiere o un medico, costringere, non liberamente, costringere a stare per altri tre anni, fino a 70 anni, poi abbiamo avuto i provvedimenti anche 72, è un qualcosa che penalizza fortemente il cittadino, che penalizza fortemente gli utenti. Quindi è uno schiaffo al cittadini, è uno schiaffo alla qualità del servizio, e la qualità del servizio pubblico è fondamentale. Deve essere centrale, proprio perché è uno di quei diritti costituzionali che sono sanciti dalla nostra carta, in maniera netta, precisa, senza sì e senza ma. Ebbene, quello è il primo attacco, ma l'altro è la mancanza totale di una visione del futuro. Perché è ovvio che un sistema a ripartizione non regge, è ovvio che al di là di promesse che possono essere quelle del bonus, anche per contrastare la denatalità a tre mesi, non hanno alcun senso. Delle politiche per la denatalità dovrebbero essere fatte per i prossimi 25 anni e un qualunque governo si presenti dovrebbe presentare questa proposta. Perché i prossimi lavoratori li avremo fra 25 anni, se invertiamo un meccanismo che oggi è drammaticamente sotto gli occhi di tutti e che ha portato in sei anni le nascite da 450.000 a 389.000, ma il prossimo step è 350.000. Ora, è chiaro che questo non dà assolutamente una visione del futuro? È chiaro che un governo, che stiamo avendo il calo anche dell'occupazione, degli occupati, perché non esistono più lavoratori, soprattutto con determinate competenze, il primo provvedimento che ci aspetteremmo e che chiediamo con forza al governo è di consentire l'immediata rimissione delle donne che viceversa vengono espulse dal mondo del lavoro per incapacità di conciliare il nostro paese, è comparso anche sui giornali, e tra i peggiori, penso che al quartultimo posto, voglio dire al ventisettesimo posto, per la conciliazione vita-lavoro. E' quella di riportare al lavoro e quindi qualificarli, fare formazione, i cinquantenni, perché oggi perdere il lavoro a 50 anni, proprio perché servono nuove competenze, è un dramma enorme. Questi sono lavoratori che già abbiamo, ma in cui ci aspetteremmo di avere una visione. Beh, questa la chiediamo a tutte le forze politiche, a maggior ragione non possiamo che sostenere provvedimenti, voglio dire, di legge, che possano consentire non solo un miglioramento, certo, della qualità della vita e dei servizi ai cittadini, ma anche quelli dell'ennesima vergogna costituzionale, quella del TFS, che viene erogato, qualcuno ha detto tre anni, qualcuno aspetta cinque anni, perché i tempi di ritardo sono purtroppo gravosi e sono inaccettabili, soprattutto nel momento in cui uno al termine di una carriera lavorativa avrebbe bisogno, voglio dire, di poter riposare o poter investire sui propri figli. Grazie a tutti. Grazie segretario.